Altra notte la diaccio per i lavoratori dell'elettroclima e della nuova X gamma è la quarta di seguito. I presidi sulle strade d'accesso alla raffineria continuano. Il freddo è pungente e per riscaldarsi si trovano sistemi artigianali. La situazione è particolarmente tesa. Un Natale amarissimo, l'albero addobbato con le lettere di licenziamento nella testimonianza più evidente. E questa mattina altra doccia fredda. Ai blocchi si sono presentati due lavoratori della ditta Edile, nuove strade, destinatari di altrettante lettere di licenziamento. Non ci sono ammortizzatori sociali, nessuno ci ha aiutato. Siamo qua per chiedere un aiuto, abbandonati proprio da tutti, sperando che qualcosa magari si risolva. Perché ognuno di noi abbiamo famiglia, mutuo, figli, scuole. I ragazzi devono andare a scuola, non sappiamo più cosa fare. Noi stiamo lottando per avere un po' di pane qua sulla nostra terra, non per andare fuori altrove. Dopo 37 anni che ho lavorato dentro lo stabilimento, tutto un tratto mi vedo senza lavoro, senza niente, senza nessun sussidio. In quanto aspetto qualche chiamata magari, perché essendo disoccupato, dopo 12 mesi, 14 mesi già è fuori uno. E non sa dove deve andare. Quindi per me non c'è nessuna speranza. Aspetto qualche chiamata che mi dicono, guarda c'è un prepensionamento, c'è qualche cosa, tutto ciò. Ormeno il mio futuro magari sarà di avere un prepensionamento, qualche cosa per essere di utile anche per la mia famiglia. Intanto la sezione locale della Croce Rossa ha montato una tenda nei pressi dei blocchi per permettere ai lavoratori di ripararsi dal freddo, un segnale di vicinanza in un momento assai difficile. Parliamo con i giovani dei tumori. Si tratta del progetto Martina, promosso a Gela dalla Lions Club del Golfo, preseduto da Eugenio Piazza. Incontro nell'aula magna del liceo delle scienze umane Dante Alighieri. Il progetto, che coinvolge ogni anno circa 150.000 studenti italiani, ha come obiettivo quello di portare a conoscenza dei giovani che oggi è possibile evitare molti tumori ed aumentare la probabilità di guarigione con la conoscenza e l'applicazione di semplici accorgimenti. Quando parliamo di prevenzione dobbiamo necessariamente riferirci innanzitutto ai giovani. Soprattutto ai giovani perché la prevenzione fatta in età adolescenziale o comunque in età giovanile si accertezza è la reale prevenzione, cioè quella che evita l'insorgenza purtroppo in età più avanzata evitando quindi che poi diventi più difficile poter intervenire. Ed è bene diffondere questa cultura tra i giovani perché la prevenzione è soprattutto un fatto culturale più che sanitario. Bisogna che ci si convinca dell'utilità della prevenzione che tra l'altro oltre che prevenire la salute, la salvaguardia della salute, serve a prevenire anche quelli che sono problemi di carattere sociale perché il costo sociale nel dovere curare ciò che è possibile invece stroncare al sorgere è un fatto molto importante. E l'è mai capitato di salvare la vita a qualcuno grazie a questi incontri? Sì, questi incontri abbiamo sperimentato ormai in questi anni che sono importantissimi. importantissimi perché vediamo che i ragazzi sono molto attenti alla prevenzione e soprattutto ricordarlo è importante. Se noi diciamo solo che un tumore ad esempio della mammella da un millimetro a un centimetro impiega dieci anni e noi abbiamo purtroppo sperimentato di giovane donne di 26 anni con tumore alla mammella è importante in questi anni cominciare a ricordare alle donne che esiste la prevenzione e noi facendo la prevenzione, come mi è stato detto precedentemente, possiamo veramente salvare le vite perché un tumore scoperto al di sotto di un centimetro può veramente far guarire la donna. Pare avviarsi verso una soluzione la crisi idrica della piana di Gela dovuta alla mancata irrigazione dei campi a causa dei lavori di manutenzione alla diga Comunelli. Fin dalle prime ore della giornata di ieri un gruppo di agricoltori si era radunato in protesta dinanzi ai cancelli della diga Comunelli. La paura più grande, le conseguenze negative e la compromissione della raccolta. Nella stessa giornata di ieri il dirigente regionale del servizio gestione infrastrutture per le acque Alfonso Casalicchio ha rassicurato che l'emergenza rientrerà presto. L'emergenza è stata chiusa definitivamente in senso positivo. L'impresa ha eseguito tutti i lavori che noi gli abbiamo commissionato e che riguardano il rifacimento di parti ammalorate della condotta di servizio irriguo e con altre infrastrutture che sono state realizzate e per questa ragione abbiamo dovuto interrompere il servizio idrico in questi due mesi. Si rendeva necessario che il consorzio facesse una istanza apposita per richiedere l'indegrazione dei volumi idrici da poter essere erogati. Una volta acquisita questa richiesta, il servizio decimo sta elaborando il nulla osta di rito e una volta acquisita questa nuova autorizzazione il mio servizio sarà in grado di erogare un'altra volta la fornittura idrica. Questo è il risultato di un lavoro sinergico con tre istituzioni quindi tra il dipartimento regionale preposto, l'amministrazione comunale e i funzionari che gestiscono la dica e chi lavora all'interno del consorzio di bonifica. L'obiettivo è stato raggiunto, la disponibilità idrica è di nuovo nella disponibilità del consorzio e quindi degli agricoltori, tra l'altro con il rifacimento della rete, con l'inserimento di un nuovo misuratore, di aggiunte tecnologiche per risolvere il problema alla fonte. Gli equivoci si sono chiariti, per cui verrà immediatamente aperta l'acqua per l'agricoltura. I disagi sono grossi perché, ripeto, è da parecchio tempo che non piove per cui è l'unica fonte, a parte qualche posto artesiano, l'unica fonte di approvvigionamento idrico è la diga comunale. Apro le mie finestre al mondo. È la denominazione della giornata organizzata dal terzo circolo didattico di Gela, diretto da Angela Tuccio. Nei due plessi della scuola Santa Maria di Gesù e Benedettina, e gli ospiti sono stati accolti dalle mini guide condotti attraverso un percorso con la visita alle aule 2.0. Una scuola che guarda il digitale e si proietta al futuro. La Buona Scuola ci chiama quest'anno ad organizzare eventi per la settimana del piano digitale, eventi che sono già iniziati a partire dal 7 e si concluderanno proprio oggi, il 15 dicembre. Ogni scuola ha organizzato e organizza eventi particolari che possano metterla in contatto con il proprio territorio per far riconoscere le ricchezze e quanto di positivo si sia fatto negli ultimi anni nella nostra scuola e in tutte le scuole d'Italia. È chiaro che è legato esclusivamente alla legge La Buona Scuola e promuove sicuramente e ingentiva la conoscenza di tutte le tecnologie possibili in ambito didattico. La nostra scuola, devo dire, con questo progetto dimostra di essere già in linea con i tempi, in quanto indipendentemente dal progetto che apro le finestre al mondo, si è già portata avanti da circa 3-4 anni l'idea di una scuola nuova, di una scuola che abbandona i metodi tradizionali per lavorare con l'innovazione, per lavorare con tecnologie sempre più avanzate. Molte maestre dell'asile hanno voluto organizzare la saga del dolce, che la saga del dolce parla di molte mamme che hanno voluto partecipare, hanno voluto fare molte torte a fantasia e molti dolci e comprando questi dolci e queste torte andranno in beneficenza. Tutte le maestre dell'infanzia hanno preparato una sacra del dolce, dove tutte le mamme si sono offerte di preparare alcuni dolci. Questa è l'aura informatica, dove noi interagiamo con il computer, scrivendo poesie, facendo riassunti, testi descrittivi, eccetera, eccetera. Possiamo anche fare delle ricerche attraverso internet o Google Chrome. Allora, questa è la lavagna LIM, una lavagna interattiva multimediale. Sono state ore delicatissime quelle vissute nella serata di ieri per la vicenda che riguarda i lavoratori dell'indotto dell'industria di Piana del Signore a Gela. Questi fatti, già durante il vertice presso la prefettura di Caltanissetta, convocato dallo stesso prefetto Maria Teresa Cucinotta, erano state accolte e confermate le richieste al Governo nazionale sulla vertenza Gela, avanzate giorni addietro dal Presidente della Regione Rosario Crocetta, dal Sindaco di Gela Domenico Messinese e dai sindacati. Al vertice erano presenti le parti coinvolte, rappresentanti degli assessorati regionali alle attività produttive e al lavoro, Confindustria, Lega Coop, CGL, Cisle Will, rappresentanti della raffineria di Gela, Sindial ed una delegazione dei lavoratori dell'indotto. Per il Comune di Gela erano presenti il primo cittadino Domenico Messinese e l'assessore Simone Siciliano. Nella stessa sede il prefetto aveva chiesto ai sindacati di promuovere uno stop immediato ai blocchi dei lavoratori, al fine di sbloccare le attività svolte nel sito produttivo del Leni, garantendo attraverso il regolare accesso dei lavoratori le necessarie condizioni di sicurezza, anche allo scopo di non ostacolare il percorso di attuazione del protocollo di intesa. Ed è a questo punto che i sindacati intraprendono una delicata mediazione con i lavoratori e ieri sera stesso, dopo una settimana di presidi lungo gli accessi stradali che conducono allo stabilimento industriale, i blocchi vengono rimossi. Giudice, ieri il prefetto chiedeva a tutte le sigle sindacali di trovare una mediazione con gli ex operai che stavano protestando e che di fatto bloccavano gli operai del diretto che dovevano dare il cambio turno ai colleghi che erano rimasti bloccati all'interno dello stabilimento. Questo poteva provocare una situazione di grave tensione che poteva anche degenerare, vista la stanchezza dei dipendenti all'interno dello stabilimento. Sì, era una situazione al limite derivante da una necessità umana di manifestare in modo civile che è quello che hanno fatto gli ex lavoratori di elettroclima, della nuova ex gamma, di asfalto e bitume e di tutte le aziende che purtroppo alcune ci sono, altre no, sono state dismesse, hanno perso l'occupazione. È un dramma senza fine. Siamo qui come sindacato, anche rappresentanza parlo di Cisleville, per dire che non ci sono toni trionfalistici dopo la riunione in brevettura, vi è una apparente calma. I lavoratori non sono stati in una nottata ricollocati in qualche azienda gelese o meno. I lavoratori sono a casa, sempre licenziati, però ora hanno una speranza. Quello che la Regione, assieme al Ministero del Lavoro, si occupi delle loro vite lavorative, lavoratore per lavoratore. Voi avete accolto quindi le richieste del prefetto Maria Teresa Cucinotta. È stato semplice mediare con gli ex lavoratori, con chi rivendica il proprio diritto ad una vita dignitosa? Ma io devo essere sincero, come sempre, nulla è semplice nel Sud Italia. Gela è una polveriera, lo era e rimane sotto il profilo occupazionale. Col prefetto abbiamo mediato perché sono state accolte alcune nostre rivendicazioni, il prefetto le ha fatte proprie e devo dire che è dimostrato che quando le istituzioni, penso anche al sindaco, al vice sindaco che erano presenti, hanno una sensibilità nell'accogliere le motivazioni dei lavoratori e noi abbiamo la sensibilità di accogliere le proposte delle istituzioni, in questo caso il comune, tutto viene più semplice a tutti. Ora siamo legati a domani, domani c'è questo incontro alle ore 13 a Palermo per vagliare la posizione di ogni lavoratore in merito alle castitrazioni e alla mobilità. Ma è chiaro che noi siamo legati a un progetto industriale che se non dovesse partire o dovesse ancora registrare momenti di debolezze noi rifaremo presidi e quant'altro perché così non va senza risposte concrete. Professore Mulè, in un comunicato stampa lei propone una stazione climatico balneare a Gela, un'idea che sembrerebbe innovativa in questi anni ma che in realtà è stata ripescata nell'archivio storico del comune di Gela. Sì, durante una delle tante ricerche che ho fatto all'archivio storico ho trovato un carteggio che si riferisce a una stazione climatica a Gela. Nel 1928 il potestà dell'epoca scriveva al Ministero degli Interni per farsi autorizzare la istituzione di una stazione climatica terapeutica e a quanto pare confortata vedendo altri carteggi da diversi comuni dell'Interland Vittoria, San Michele di Canzeria, Butera e quindi a quanto sembra questa stazione climatica nacque, tant'è che nel 1930 fu realizzato l'ospizio marino. Ce ne siamo un po' dimenticati in realtà perché si tratta di sfruttare quello che già c'è, che esiste assolutamente, ovvero il clima straordinario che abbiamo in questa città e poi la sabbia. E pare che appunto che questa sabbia abbia dei benefici importanti per la salute. Ma non è solamente questo che è stato dimenticato a Gela, moltissime cose sono state dimenticate a Gela, in particolare dopo l'insediamento del petrolchimico che ha fatto perdere alla città l'imprenditorialità. Speriamo che rinasca questa imprenditorialità e in particolare riservata a questa istituzione, ristituzione della stazione climatica. Nell'ospizio marino che funzionò fino alla fine degli anni 50, prima anni 60, erano ospitati ragazzini dai 7 ai 15 anni che avevano malattie riferite alla pelle ma anche riferite all'apparato polmonare. E attraverso la psammoterapia, cioè la cura della sabbia e la talassoterapia, la cura del mare e anche medioterapia ovviamente, venivano a passare tutta l'estate qui con benefici di guarigione che sono stati dimostrati, che io ho visto in altri carteggi. Dunque lei vorrebbe lanciare adesso una proposta? Certo, una proposta agli imprenditori e ai giovani in particolare, dal momento che c'è questa dismissione dell'indotto, quindi bisogna darsi da fare, ed è quella di realizzare una start-up per fare in modo di istituire a Gela, come è stato fatto negli anni 30, una stazione climatica di cura. Sono stati ricevuti dal primo cittadino di Catania, Enzo Bianco, i comitati di Gela, Piazza Armerina e Niscemi, promotori dell'iniziativa a sostegno dell'ingresso dei rispettivi comuni nella città metropolitana di Catania. Filippo Franzone, del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. In questo momento queste tre comunità, Gela, Piazza Armerina e Niscemi, appunto, si trovano in un limbo. Ci sono le ex province di appartenenza che cercano in qualche modo di ridurre i servizi in questo territorio. Dall'altra parte la città metropolitana di Catania non può fare una programmazione che include questi tre comuni perché ufficialmente ancora non è stato concluso l'iter. E quindi siamo andati da Bianco innanzitutto per chiedere la sua collaborazione a far sì che l'iter venga completato. Infatti abbiamo chiesto a Bianco che insieme ai sindaci di Gela, Piazza Armerina e Niscemi, insieme ai tre comitati, il XAG, il pro-referendum di Piazza Armerina, i libri consorsi di Niscemi e la consulta di Niscemi, di andare appunto a... a parlare con il Presidente della Regione per far sì che quest'iter venga al più presto concluso. Quali sono gli atti sostanziali che mancano per completare questo definitivo passaggio di questi comuni alla città metropolitana, all'area metropolitana di Catania? Sono gli ultimi due passaggi che sono più una presa d'atto che una decisione vera e propria. Manca la delibera di giunta del Governo regionale, la quale poi deve essere sottoposta all'esame all'ARS e quindi successivamente pubblicata in chassetta ufficiale. A quel punto abbiamo concluso tutto l'iter sia ai comuni che alla Regione e quindi ufficialmente potremmo dire di essere all'interno della città metropolitana di Catania. Che tempi potrebbero correre ancora? Se non ci fosse stato il problema del rimpasto della giunta regionale probabilmente avremmo già concluso l'iter. Riteniamo che ci vogliono soltanto delle settimane, ovviamente ora siamo sotto le festività natalizie, riteniamo che al massimo entro gennaio si dovrebbe concludere completamente tutto l'iter. E il sindaco Bianco invece intende intervenire? Che comportamento pensa di porre in essere? Il sindaco Bianco ci ha detto che lui è pronto e disponibile a collaborare con questa realtà già sin da ora e infatti si è preso carico di alcune difficoltà che queste città stanno cominciando a subire, dai problemi ospedalieri che hanno ad esempio Piazza Almirino Niscemi alla soppressione dell'ufficio IMSS di Gela e quant'altro. Queste cose le abbiamo elencate a Bianco e ha detto che lui dove può interverrà. Inoltre con Bianco abbiamo parlato anche di abbiamo accennato di una programmazione futura per questi territori, abbiamo parlato di turismo, di portorità, abbiamo parlato di agricoltura e quant'altro. Abbiamo trovato finalmente un interlocutore con cui si dialoga ed è attento anche alle nostre iniziative. Il sindaco Bianco sta seguendo le criticità, la vertenza Gela ad esempio? Lui è attento un po' su tutto, segue anche la criticità della vertenza Gela, segue le varie problematiche di questi territori e speriamo che al più presto mettiamo un punto alle problematiche e iniziamo invece con la progettazione di questi territori. Libertà di pensare è il primo giornale redatto all'interno della casa circondariale di Contrada Balate a Gela. Un magnifico progetto realizzato in collaborazione con l'associazione di volontariato Hauser insieme che si avvalsa delle competenze del navigato giornalista Rocco Cerro. Una delle note più significative consiste nel fatto che al primo numero del giornale hanno dato il loro contributo gli studenti dell'Istituto Tecnico Morselli, del liceo scientifico Elio Vittorini e del liceo classico Eschilo. Siamo pronti e disponibili a vari linguaggi, è il linguaggio del giornalismo, è un linguaggio forbito per certi versi che avvia anche i detenuti a migliorarsi non solo in italiano o nell'espressione letterale ma soprattutto si avvia a cogliere il punto fondamentale che è la cultura da libertà, rende liberi. Per questo libertà di pensare, liberi di pensare, questa è l'esposizione al giornalino, questo è l'obiettivo. È un'iniziativa che accolgo con grande entusiasmo e non è la prima perché questa manifestazione è stata preceduta da manifestazioni teatrali e da altro. Tra l'altro io ho già letto il numero zero del giornalino. Questa esperienza che coinvolge non solo i detenuti ma anche la società civile di Gela è da accogliere con grande entusiasmo e favorevolmente e fa parte delle tante iniziative trattamentali che il direttore e gli operatori e non solo, anche il corpo di Polizia Municipale propone quotidianamente qui ai detenuti di Gela con grande entusiasmo. Sicuramente è un'esperienza di vita importante ma anche un'esperienza didattica fondamentale per gli alunni. Perché inseriti in un ambiente di apprendimento diverso dal solito, non la classica aula? Perché, come hanno detto gli stessi due alunni del liceo classico che hanno partecipato e Giulia e Andrea, è stata un'esperienza forte. Cosa hanno tratto i nostri ragazzi? Beh, sicuramente nozioni di giornalismo di base che sono utili per la loro carriera scolastica ma soprattutto l'approccio con un mondo diverso, un mondo che a sentirlo raccontare non è quello che si vede di presenza e soprattutto un contatto diretto con chi vive la restrizione della libertà. Noi ci siamo proposti e di fare questa proposta abbiamo subito iniziato. Piano piano è maturata l'idea di fare un giornale interno e chi se non il dottor Cerro potrebbe essere d'aiuto. Lui ha accolto questa proposta in maniera entusiastica, siamo andati avanti e il risultato l'abbiamo sotto gli occhi con i giornali che vi abbiamo distribuito. Il giornale deve svolgere anche funzioni di questo tipo e ci siamo messi subito a disposizione con l'intera struttura del Corriere e oltre alle lezioni teoriche che abbiamo fatto qui da aprile ad oggi e continueremo, abbiamo realizzato dei prodotti editoriali veri e propri fatti dai ragazzi che hanno partecipato al corso, i detenuti, che sono stati sempre molto attenti, puntuali e interessati, hanno scritto degli articoli. Il mio reparto mi consente di fare questo e anche altre attività che consentono di garantire maggiore sicurezza e di credere in quello che è un principio su cui noi fervamente siamo convinti e cioè che la cultura è il vero volano per interrompere i fenomeni di devianza. Questa iniziativa è stupenda come tutte le iniziative che i nostri volontari ci presentano e ci fanno come proposte. È bellissima perché facciamo entrare la comunità esterna anche attraverso ai ragazzi dei licei che hanno partecipato in maniera attiva e meravigliosa. Quindi è un'attività cui ho tenuto moltissimo, tengo moltissimo e spero che non finisca mai. Assessore, qual è la risoluzione per gli agricoltori che hanno terreni che insistono sulla piana di Gela e che purtroppo hanno patito il disagio della mancata irrigazione dei campi a causa della manutenzione alla diga comunelli? Sì, allora si tratta di una grande emergenza creata con la necessità, devo dire con sincerità, di permettere agli agricoltori di avere l'acqua, quindi non interrompere il servizio partendo da febbraio in avanti. Evidentemente il prolungamento della stagione estiva, mettiamola così, quindi della condizione di siccità ha creato la necessità di dover comunque interrompere l'irrigazione per permettere il ripristino dell'etubazione della diga comunelli, creando al contempo i disagi agli agricoltori. Ecco, una grande emergenza che però attraverso un processo di sinergia e con molta intelligenza da parte dei funzionali regionali, l'amministrazione del consorzio, è stata risolta anticipando l'erogazione dell'acqua che avviene oggi nell'emore di chiudere tutti i procedimenti necessari alla cessione delle reti. Quindi una boccata d'ossigeno per gli agricoltori che avevano visto in pericolo la raccolta? Sì, una boccata d'ossigeno anche in virtù del fatto che in realtà la diga è quasi piena e quindi comunque l'acqua dovrebbe essere smaltita e invece di essere gettata a mare viene utilizzata per dare ripristino alle culture degli agricoltori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!